eccoci ragazzi tornati su conan ora partiamo andiamo a prenderci forse il leone pet buongiorno a tutti ho toccato un tasto che mi sento sotto l'interfaccia come faccio a toglierlo il tasto v si toglie tutta l'interfaccia andiamo andiamo a prendere il tele andiamo tasto v toglie tutta l'interfaccia potete fare le fotografie ah interessante ho capito adesso avverò saputo prima facciamo così la foto a cocco ma scusa quando c'è il funerale di cocco non c'è neanche il corpo quindi vogliamo vabbè fai la cerimonia lo stesso in chiesa dalla sacerdote di nella stalla lo facciamo dai ti porti un sacerdote di mitra lì toglierti kira sempre tra i piedi si perde ecco il bello di cocco era che si passò di attraverso non avevo incontro c'è questa qui c'è tutta la tutta storta allora aspetta no su qualcuno centrale no il tutto su un caderno questo giusto ma scusate ma come si va a capire quale quello giusto devi vedere la luce qual'era ecco il secondo la cosa che ho notato quando si attiva teletransport porto porto un raggio di luce anche su sull'obelisco ti ti sono без su dons ti si può proprio adesso è arrivato un fascio di luce adesso è arrivato qui allora ma chi è a101 aspetta un attimo ancora che guardano attimi ovviamente ogni volta che l' извilltly sub non la vedo procediamo cosa 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 questo vedo l'entrata a malin piena di schede che ho visto ieri non tra i guerrieri schede buono che avevamo questo bellissimo che siamo già arrivati sperando di non trovare animali strani la ci sono rinoceronti pericolosi e le tigri e leone magari tigre contro tigre tra kira aspetta io non mi ricordo il punto preciso dov'era tra 19 dove c'è quella spezia di teschio sì vicino a 10 in alto si ho visto ok allora andiamo andiamo di qua allora niente vabbè non so che dire niente a me non me la fa mai vedere sta live sul cellulare il mio cellulare che non va non so perché qua c'è anche ferro vedo io sono già praticamente secca che ho appena bevuto prima di uscire di casa perché non lo so adesso io ho due borazze quindi una metà la trapiena guarda qua guarda qua un po' lì dopo c'è anche da andare a prendere un altro bel disco c'è molto ferro da queste parti anche e c'è una base pure qui dietro c'è un po' lì dopo c'è anche da andare a prendere un altro bel disco vediamo se magari c'è una mappa anche adesso parti ho preso anche un custolo di tigre e ne ho presi due così se vogliamo possiamo anche è la zona tigre quindi dovrei scendere tra l'indietro lo robot e i cuccioli non mi neanche visto bene dove sono provati niente a me non riesco a visualizzare non riesco a visualizzare la live non so che fare queste volte mi fa questo lavoro qua dunque dovrebbe essere lassù in alto in dieci b dieci praticamente dobbiamo tornare indietro bisogna andare di là allora si che spavento si di qua andiamo di qua sono attenti alle tigre io non vedo nemmeno un animale mi sembra strano farò che io tu prima ora quanto ferro si anche se qualcuno si fa il base qua comunque è ben fornito ah lì infatti c'è una base là giù allora anche lo sull'albero sono giusti sono giusti mamma mia che cos'è questo un tempio ma che è mamma mia ah non è che hanno costruito intorno come hanno fatto col tempio di dimitra ho chiuso tutto dentro ma che posizioni sono queste poi allucinanti cioè eh guarda questo anno che è vero quello bello eh secondo me è forte cioè l'ho provato ma spero che non si non è possibile vedi niente giurano intorno no a parte che siamo giusti di qua ah ma come va mi senti così velocemente la sede qua questo è molto caldo no non lo so eccolo sei bagato no se non so boccato ci credi no niente non muore ok tu dove sei andato a finire ah la sai è successo che parto questo è arrivato un altro io mi faccio un lettino non si sa mai che trappiamo ah sono aspetta mi è caduta la commissione ma mi sa che le conoscere con questo caso non vanno tanto bene anche io c'ho problemi insomma proprio durante la diretta poi vabbè è chiaro che è sempre così tutti i problemi ecco perché quell'animale non non moriva allora allora dovrei tornare dovrei tornare da autoria beh sì dove c'è caduto non so dove di preciso però ah però così non abbiamo non la pietra tigre mi sa io la vedo qua la kira sì dove 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 io sì oh ecco perfetto facciamo provare qui aspetta ho fatto un test ah quindi è morto oppure non vedo il cadavere ok lo vedo ancora in pd da prima però ok eeeh ah di qua ah no ho capito perché che cosa? ah sta facendo su twitch ecco perché non riuscivo a vedere su youtube ah vabbè vedi ah 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 ero dimenticato di cambiare la chiave aspetta eeeh adesso al sinistra? allora dobbiamo andare verso dove ci sono quelle due stradine un attimo controllo eh eh perché sono troppo là sul bivio dunque dobbiamo andare verso eeeh sinistra allora dobbiamo stare qua in alto da qualche parte su qualche roccia ti rie vediamo qua attenzione che potrebbe essere lì ah no allora dov'è? questo no? qua comunque dovrebbe essere tipo qua un po' leggermente più avanti di di fronte dovrebbe più eeeh senza se c'è per non vedere che ci sia davanti? si mi pare che dovrebbe essere sposto a montagnetta qua da volta qua non vorrei trovarmi il cuciolo dici? eh c'è il padre e poi i due cuccioli dovrebbero esserci ah ecco eeeh allora magari prendiamo dalla larga e e per quello infatti mi vorrei trovare guardiamo da lontano questo coso dietro e gli incolpi giù c'ha vedo un cucciolo vedo qualcosa di più grande dove? quello che sono quelli? ci vuole un cannocchiale dove? ah ecco lì sì il padre e i due due cuccioli dove Akira? boh ma scusa che rapporto del leone? allora aspetta una tigre che si spaventa del leone commenta allora andiamo fare l'arma io ho un'idea non so se poi magari riusciamo a prendere senza che attacchi maledibito no allora no 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 ah se lo mette qua? va avvenendo qua i cuccioli li possiamo raccogliere se lo mette di scrivere chiera me lo attacca non me lo fa prendere io sì l'ho preso io leone lo lasciamo vivere o? ma boh possiamo anche lasciarlo vivere si o vuoi fare esperienza? dunque vi faccio vedere dove si trova in questo punto della mappa ragazzi in B10 vogliamo combattere? magari ci dalla testa? che dici? vabbè dai proviamoci tanto aspetta aspetta so io il trucco ma ce l'abbiamo la mannaia per la testa ah la testa quella di da pendere oh la so aspetta vediamo se chiera attacca ma la mannaia dicono che ha più probabilità di avere le teste eh no non ho ancora fatto in teoria qualcosa la mannaia dovrebbe servire chiera attacca subito arriva sono imbabolati i suoi pezzi sono imbabolati i suoi pezzi no ma ecco ma mia come è solta no io il sanguinamento non so neanche perché sarà lui eh ma non è neanche mi ha toccato forse ti ho trovato io un colpo per sbagli non c'è problema non c'è problema non c'è problema un po' di lagra ho preso chiusa è assata coretchio è ormai finito dove si sta noticando ecco sempre in mezzo questo sangue di danone fiore ambrosio però 8 però nella di più di che andava fra quei danza molto sangue di demone 30 tonne 26 pellizza in più due cuccioli di leone due cuccioli di tigre no perché scusa 2 allora io non ho preso ci sta come si stava ai dobbiamo andare sui qua voglio andare per andare per andare l'altro vedisco questa qui dove c'è quella ghetto nella zona marrone allora possiamo dare la sordina qua si passano dalla stradina ok effettivamente che solo hanno apporti servirebbe la mappa dopo quando non ho viste vabbè quanto prendiamo l'obelisco così almeno li sblocchiamo un po' tutti io ne siamo arrivati fin qua potrebbe essere degli npc ci sono c'è il loto da raccogliere io ho visto una rozza cadere quello c'è il forse anche le fanta ah si ho appena affiorato però comunque credo che non ti facciano danno queste rocce no penso neanche io e morirono per scuola parte che sto allagando io eh ma il server lag ha detto prima che sono morti da gas ma è quello poi è il lago dobbiamo andare giusto nel lago si poi dovrebbe essere anche delle ricette da imparare lì in quella zona comunque è g star lì come si chiama o star sta tutto il giorno a scrivere madonna ah l'ho detto è sempre online 24h no sempre no perché l'hanno raidato quindi deve aver slagato per un attimo giusto per andare a dormire in colvoretta dunque dovrebbe essere qua la docetta attenzione che ci sono i fantasmi vedi quelli lì a durri ancora no sono molto forti quindi ah adesso si vedo da lontano ma perché ti uccidono si si non sono quelli lì della storia sono proprio dei mob noi dove dobbiamo un pozzo all'interno della ah aspetta si bere fai prendere scorto d'acqua oh ci conviene farlo magari il giro qui in alto così vediamo se c'è qualche mappa magari il fatto è che non so neanche dove sei non ti vedo non ti vedo ah si la forse c'è una mappa si davanti a noi ah è vero vuoi guarda ma così sono manco più velozzi a rientrare obelisco invece dove dovrebbe essere qua più avanti qua c'è anche una ricetta da imparare ero ho parlato come un tito se ne ricordo questo qua guarda possiamo ora attaccare ah questo non so che faccio io ho anche avventurato in l'estero ma io ho avuto un po' di poter vivere un sere, mio amore non si sono riusciti a chiamare loro i suoi sono passati dall'estero dove hanno sentito mamma e i suoi uccidi di Dio ma in un'islazione sono un gosso di sangue no, non ho fatto questo no, sto curando se qualcosa qui per terra non è quello la l'obelisco sono tu ah, eccolo la appunto qua c'è anche da prendere questo lotto qua che serve per fare qualche posizione mi trovi solo in questa zona allora vado a vedere se quello è un obelisco eh, l'ho raccolto è uno rosso questi qua no questo vieni qua sta diventando buio qua ah, ho visto si qui rossi ah, guarda che ho la la fazza e c'è tutto in questa zona qui di questo lago questi fiori di lotto particolari guarda cos'è che mi ha dato ah si c'erano due lotto cremesi si, ce l'ha anche uno dietro c'è di fianco bene, io non vedo più niente aspettiamo infatti ma l'obelisco è quello lì di fronte io comunque quell'altro obelisco lì dove c'è il tempio del serpentone è veramente una cosa fatta malissimo perché quando scendi io mi sono incastrata poi dentro un buco fortuna sono riuscite a uscirne quello che usiamo sempre? no, no quello lì dove c'è il serpentone l'abissal il boss abissal il serpentone c'è il tempio che tu non l'hai preso perché non riuscivi a arrivarci ah, ok quello giù è quello lì, antipatico perché tu arrivi lì e poi ti devi buttare e ti fai finire i buchi cioè non c'è una strada avere ciocchi ma dovrebbe esserci la scalina al fianco forse c'è il villaggio sotto quindi è un po' difficoltoso ah, sì, di passare attraverso GQ quindi va bene eh, qua è tanto buio sì vabbè, presentiamo Rimba si ne raccontavamo anche la storia tristissima dei nostri pet che brutta fine che hanno fatto allora Rimba che sia questa qui una tartarugona è nata da qualche giorno ed è una femmina e aveva ah no scusa è maschio non mi ricordo se cos'era è maschio non so il cocco era una femmina cocco era maschio quindi rimba nostra ah, allora questa è una femmina sì non si capisce più e aveva avuto una simpatia subito si era trovato benissimo con questa cocodrillo di nome coco purtroppo coco è deceduta ieri per mano di due tizze è un clan chiamato aspetta elenco giocatori Celestial Celestial che ci hanno anche minacciati perché hanno detto che uccideranno tutti i livelli bassi vabbè che tu poi perché livello sei rock io 53 no non è che ci hanno minacciati l'hanno detto tutti da tutti quanti che loro uccidono solo i livelli bassi eh vabbè però sono anche stronzi perché eh cioè non capisco perché non possono uccidere anche i 60 si vede che non sono per così capaci sì infatti saranno i primi della nostra lista per essere perché fuori erai da ovviamente per vendicare no no il primo adesso lo troviamo a quel Powell che mi ha rubato tutto sì mi ha rubato la maschera del deserto e tante cose e poi piano piano quei due piano ci sarà la vendetta una live sulle varie vendette ecco perché cocco l'ho vendicato assolutamente cocco e anche l'orso di anche l'orso no è morto ah il mio rinoceronte mi hanno fatto fuori ci hanno fatto fuori tre pet la rinoceronte cocco e ecco ma che l'ho chiamato l'orso ah boh ah nicoletta nicoletta l'aveva chiamato spero ah tu ci rivedi è stato dato quel nome nicoletta è durata pochissima pochissima ah peccato per cocco perchè ho fatto di grandi i combattimenti oh dici cosa c'è già la corruzione ciò che ha rampicato qua per prendere l'obelissimo ahia deve toglierti l'armatura qua perchè? toglierti l'armatura e vedi che vai su tranquillamente che buono ho messo questa cosa qua ok ok buongiorno l'obelisco sincronizzato ciao animal siamo in live saluto a tutti salve a tutti ahia allora mi rimetto allora mi ha fatto venire un colpo perchè non mi aspettavo che entrassi una voce ho toccato l'obelisco salve a tutti cosa c'è ah la corruzione ancora che sto mettendo la famiglia in fermatura eh tra poco ci arriverà l'attacco come si chiamava la 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 ah la purificazione si poi c'era interessante farla vedere però vi è arrivata la purificazione? una volta è già arrivata si arriverà tra poco sicuramente perchè siamo molto alti beh già stavamo in più dei metà ieri sera eh oggi è ancora più alti siamo allora allora ero che vieni giù che prendiamo la mappa andiamo lì dalla mappa sono già qua ah io ti vedevo la sopra con la lì dove è? allora questo aspetto dobbiamo andare aiutare il centro che ha questo? sotto c'è il vulcano c'è il fiume sì ok insomma attenta alle iene che prendiamo fuori ma questa chi è? questa tica ah è la Pussi vabbè lasciamo dalla mappa c'è Pussi anche qua c'è una mappa ho visto eh quindi da questo obelisco volendo si può andare però è che mi attacca Pussi come se mi tirava a fare l'arma ah eh tu dove sai? dalla mappa ah che sei ancora su tu ma io sono già mi sono già teletransportato ah ok devi capire qual è quello giusto aspetta ma non dovrebbe essere quello allora rispetto al vulcano questa qui mi sa che ripussi sta mappa è quello che ne volevamo aspetta allora il fascio deve essere non capisco dove la facciamo no eccolo no questo no questo no eh il fascio è rosa tipo con il colore sì tocca imparare i colori ci ritrovissimo magari un'altra parte allora adesso andiamo cosa mangia il leone? mangerà la carne si perché va molto bene anche la carne di porco il maiale insomma oh no ho sbagliato teleport che è successo? non era rosa eh mi sono trovata lì dal ragnone ah secondo me ah sì ma è questo il tempo è giusto sì ma peccato c'è questa vienesca elettrica si no 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 ho sbagliato io tanto abbiamo gli amici dietro e è vicino oh questo poterà in seguo tre ore sono aumentato di livello ahia mi scoperto parecchi punti nuovi no marcanismi il rimba ovviamente sta lì a guardare no? si gode la scena ah ti sta proprio attaccando? sì perché me la sono trovata davanti con un po' i visiteri arrivo 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 no ma l'ho disseminata credo non la vedo più allora mangiamo un po' di carne ma ce l'hai di dietro ce l'hai? ah di nuovo scendi 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 questo lo posso scattare qua andiamoci quindi a far dar tempo lì comunque questo villaggio qui a sinistra ce dovrebbe essere qualche livello 3 mi sa ah si questo io non l'ho ancora no quello anzi si si no no l'ho scoperto ieri io dico questo qua che è un'altra cosa qua? forse c'era già questo qua no? questo qui ci dovrebbe essere qualche schiavo di livello 3 perchè è un punto buono per gli schiali si vorrà entrare un po' si no e qua ci attacchiamo subito mi sono bloccata no mi sono bloccata ma vedi che eeeh magari il rimbasso ci sposta ma mi sono incastrata dentro non riesco a promuovere oh oh c'è questa prima mania c'è ah c'era che faremo? che faremo? c'è vieni attaccato da due animali e ancora lancio le frizzolani che è forte eh questa è una zampata l'ho ucciso allora vediamo cosa aveva addosso non c'è niente interessante siamo così arrivati mettiamo un po' lmc tanto ferro non ci serve che l'abbiamo preso tantissimo quindi io vado giù credo perchè voglio evitarmi sti combatte contro di sti ah qua temi la destra che a sinistra c'è il il ragno? quello quello scaletto che ti ho fatto vedere ieri ah si ti vedi? no no vedi cos'è il suo rumore? ah ah aspetta ti ho fatto un po' non so non da cavolo sto scendendo ah c'è salita ah ma qua ci dovrebbe essere anche l'attore è in fc c'è anche l'attore del quella lì che ti dicevo del eh che ti sarà lì? si non è da carico infatti lo facciamo subito ho fatto livelli sto ricordo io questa qui mi ha dato la testa ma la botte siamo piene di testa di questo qua perchè c'è un bot ebbè c'è rimba anche ah ma la vuoi prendere aspettivi mi diamo le coordinate f ho detto 5 ops ah tu sei dall'altro posto ok si dovrebbe essere questo ma per 5 posto in un posto che cosa su o e poi non molto lontano da da qui un po dritti a destra soprattutto col ferro che abbiamo trovato ieri non lo troppo dico la iena pieno di iene qua porca miseria mamma mia quanto ma infatti c'era un grovino un gruppo bollice anche rock si qua è pieno di ferro poi non si riusciamo a scappare e ti pareva che il rock mi incastrava no dai mi hanno incastrata come stamattina sto arrivando sto arrivando sto arrivando ma perchè fanno così ma perchè fanno così oh che taglia posso si però vedi mi aveva incastrato qui contro il muro e non ti riesce più a muovere e ti ammazzo trova questa armatura più pesante ecco bello ma non ti fa rampicare fermatura ah no ma questo l'attore si dovrebbe essere qua dove si sale eh devi salire così trovare il punto ah dobbiamo rampicare proprio io me la tolgo questo punto non mi fa rampicare ah si meglio intanto c'è anche un gallo che ci fa compagnia sento scusate sento che corri adesso vengo pure su su conan allora e quelle delle due questo dietro di noi o no che c'è qui davanti questo davanti poi quell'altra no dovrebbe essere questa qui di fronte a noi se non sbaglio mi pare questo? si ah interessante si io direi di andare da quelle rocce lì che mi sembra un po' più alte il suo rock proprio con sotto di noia lo so lo uccidiamo poi c'è una corta piano ok arrivo ah ma non è legato qua guarda quanto ferro che c'è qui si a quella zona dove abbiamo raccolto ieri ah ok ma lì non so quanto si riesce a sembra migliore qua ma quelli si si c'è praticamente tutta questa zona ma anche da là a parte della balda non so che non ce la faccio arrivare su da qui e giù sotto c'è un rock non c'è pochissimo far perché non so neanche da dove si può salire e c'è un altro rock vedete se io ho chiedo a casa aspetta è nato che ho trovato il punto giusto ho ucciso i due rock che ci sono qua non c'è una scala che porto su non lo so bisogna arrampicarsi tipo dietro di qua ci vorrebbero quei guanti l'ampicata magari aspetta forse lo conosciamo questo è un po un buco però mamma mia due rock che spavento ancora pieno ok è scoperto l'attore dei più più sorelli mi piace te mi stiamo ancora scappando dai rock praticamente no è pieno sai che stanno il sottoterreno che non si vede ah si ah perché sei sceso giù no 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 sono venuta pochi in là e c'erano le due tre cioè c'è pochissima vita mi sa che me ne vado all'altro mondo sopporto qualcosa da scoprire no legge scoperta ma si no dico di 7 non ricordo qualcosa sì ma non era una ricetta sono prodotto da mare su c'è quel bottino lì del sottoterreno forte? è un teschio allora abbattibile dai dai ma dove l'hai presa? devo prendere anch'io ma non ho capito il punto qua no 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 è morto ok sono creduto ma il corpo dove è andato a finire? al punto che lo vuole ritornare sotto sotto nella buca se percorrò che arrivo su dimmi se ce la fai a recuperarlo per favore anche perché l'ho produttuto come l'ultima volta no ma ce la fai a tornare entro quarto dura 20 minuti ma cazzo io ah però devo anche arrivarsi io non lo vedo non so dov'è poi ci sono tutti i rock guarda non muo' lo uccido ma non lo uccido e nemmeno a recuperarmi vita allora ora devi andare verso verso il fiume da dove sei adesso no è uscito un terzo il quarantesimo ma sono ma io c'è anche tre ore che mangio eh suurito del mio corpo c'è anche la carne esotica che ti è rico tego verso il fiume quindi dove sei tu vai non so moviti no 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 indietro dell'attraverso sinistra girando la mappa così a guardandola qua sì avanti così un po verso destra sotto la montagna proprio dove salire dove ero io prima avversare tutto col ferro e l'ha attaccato alla montagna c'è una buca sotto alla cadastra adesso inserirlo sopra morivo superato l'è superato all'ultimo piano c'è proprio in terra il corpo dovrebbe essere allora è presente dove eravamo prima che abbiamo ucciso due rocca che tu dopo ti sei allontanato io ho cominciato a arrampicarmi va beh no non ne ricordo che eravamo precisamente appunto allora torna un po indietro dove c'è quello struttoglio praticamente tra le due montagne il mio corpo sopra alcun pelo più avanti alla tua sinistra e sopra ecco dove sei adesso praticamente più o meno però deve salire sopra una volta che sali sopra attaccato alla montagna c'è come una buca e non troppo assentalo dentro ci sei che sei di solo stelle sopra e non è abbastanza meno è quel problema ora ci ritrovo ha provato a toglierti l'armatura no ma allora guarda non è alto non so perché ma non mi si consuma tantissimo niente non ce la faccio beh perché non so quanti periodo arrivare su che ora immagino sei già andata no allora grazie di essersi scritto barlog 101 che starà guardando le nostre imprese che non riusciamo a salire da una roccia tentando di non so perché il mio personaggio non si arrampica nemmeno più troppo morirò di nuovo quindi sono lo prende tu mi rimaro non sono non sono qua aspetta forse no non ho abbastanza stamina non ce la faccio salire non so se c'è qualche punto da mettere ci mancava solo la tempesta allora vediamo io sono ci ho messo un po' di sono un po' il coperto vediamo se basta tu dove sei? davanti lì alla roccia eh però fare il giro attorno no ma adesso mi sono messo un po' di pulsi dovrei averne un po' di più dovrei farci ma caldo così però che non ci vedo niente aspetta che finisca questa sabbia senza solità è perché sennò è perché magari arrivo su c'è un roc e non lo vedo nemmeno anche perché se perdo tutto ci sono anche i puzzoli ah già è vero i puzzoli con la miseria oltre al discorso dell'armatura anche un'ultima volta comunque io sono sono al riparo adesso quindi non sono salvato la tempesta mamma mia ma qui è veramente enorme guarda la giocosta ok posso finita posso partire guarda che sta finendo eh guarda proprio più gli omici poi facciamo anche le iene bravo bene allora dove sto andando la nostra contattiva eccolo lì il corpo e mezzo al buco però cliccando tutto il suo perdosto e comunque riuscire a preso tutto però super pesante vabbè rimango qua sto arrivando importante che non è recuperato a meno che adesso non credo io che mi arriva qualcosa perché non mi muova nemmeno fai conto ah no io sto arrivando sono qua sì allora bisogna mettersi sempre dei punti anche qua sono dei fantasmi vuol dire che c'è una ricetta qualcosa hai imparato danza della guerra ah va bene tanto anche se non impari quelle danze vabbè che volevano fare una festa però io ci sono io ci sono ieri l'avevo imparato un altro di ballo vieni su che ti ripasso tutta la roba perché sì 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 sto arrivando comunque anche rimba mi sembra che è conciato male è tutto pieno di sangue sì che era rientrata vero? sì non la vedo più non ti ho visto quindi sì sono già via allora vediamo un po' qua dove? di fronte a te girati qua ti mimetizzavi con eh lo so ma non mi posso muovere allora ti do tutti gli animali sì beh qua la tua armatura questa è la mia poi la carne magari non lo so vabbè che è già pesante poi che altro ci ha di armatura questi no questi ah dammi per tutto quel che vuoi che tanto vabbè posso portare molto carico le scarpe poi vabbè guanti questo è tuo cominciò a no perché sono troppo pesante non posso portare ah le borracce ne avevi due ok giusto sì pochi altri le bende erano tue allora poi questi sono tuoi altra quanta roba è tutto il sangue c'avevi anche eh sì che posso anche buttarlo che tanto veramente è tanto questo il resto dovrebbe essere ah poi c'è la braccia ma doma quanta roba c'hai ah tanto tre teste basta dai così va bene c'è il 68% eh aspetta ah la torcia torcia ah ok ok a questo punto che presi sta cavolo di cosa di strada dov'è che sta non ne posto più andiamo a buio allora adesso aspetta che ci stiamo un attimo adesso vada come la carne ce l'ho quello fatto e contiamo l'oro ok ma dove l'hai preso questo punto della torre qua da qua che cosa scusami per avere l'arcivamento della torre dei pipistrelli aspetta che sono di nuovo al buio e senza fibre per la torta ma l'ha fatto appena buio qui ho sentito un rumore ambigolo stava risvegliando di rimba arriva sappia la vita però prima mangia anche le crostacee sì non so tu dove sei però allora io intanto sai cosa faccia tanto che arriva luce c'è no non so io vedo ma non sapevo che c'era rock la volta ok mi senti sì ok sarà bloccato discord allora intanto guardo cosa mangiano le iene non le iene le tigri tioni sì leone forse mangia la stessa cosa che mangia la tigre speriamo mettiamo insieme la carne particolare non è la carne la fetta quella sclassica erano altri nomi adesso in italiano non so che si chiama non l'ho mai visto non ho capito più allora eccoci qua qua cosa che abbiamo orso orso camello l'elefante 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 l'uomo il giaguaro sono tanti qua come si fa arrivare lassù giusto non è terriba il corpo con terra ok mi sei baggata dentro la roccia no no aspetta se vedi il video sono praticamente tutto il corpo dentro la roccia qui si fa la roccia oddio ok prima vuoi venire anche tu su ah ci sono tre tre evoluzioni della roccia si ce ne sono tipo uno ti dà la roccia normale uno dovrebbe dare il silver cioè l'argento e l'altro l'oro un altro oro anche però è colorare una promette di da loro quello che c'è una facilità minima ora questo primo non è quando ne fa rampicare bene 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 no so qua non la cosa con il vento io sono bella colpione corta luga mi sa che è ma come la sensazione che tra poco cadrò giù perché qui in punto che non c'è tantissimo ma cavolo è difficilissima l'antrava l'avevo azzeccata bene per venire su ti dico io c'ero quasi poi a un certo punto per pochissimo non ci sono arrivato e sono caduto ma infatti forse convieneva andare di là iena no c'è chi era lassù in alto credo oh si vedo una tigre allora si ah allora tigre manca pochissimo ah praticamente il tigre è solo un'evoluzione normale la grande oh ce l'ho fatta ah ma poi bisogna anche scendere vedo che c'è però c'è tu mi sei arrivato di dove c'è il pipistrellone io no sono arrivato in cima me l'ho sbloccato in solita a me no ma l'ha dato allora 97 e 3 devo andare là ma l'ha dato anche più strano 95 e 5 90 e 10 che non lo abbiamo 93 e 7 ecco la carne che usciamo ad avere con quella umana la tigre ah carne umana 95 e 5 di possibilità c'è il 5% è la massima cioè non c'è il 20% con qualche altro tipo di ma ah si è con carne esotica eh carne esotica ma io faccio non posso non riesco più a passare ma tu guarda stupido vediamo se trovo il leone vai là oh questo lupo è come una brutta sensazione che scendendo ci scappa il vino oh c'è una pietra niente leone non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è perché l'hanno messo nell'ultima fece non c'è non c'è non c'è non c'è io vorrei non c'è non c'è dove scendere oh vabbè l'altro A la mattina, un riscattore di riscattore di riscattore di riscattore di riscattore, archivistico e prezzi. E così è il nostro futuro, da l'esercizio e da l'esercizio su questa terra. Tu servizio ci farà molto honore. ok tu stai scendendo? eh sto cercando ma non so quanto ci resisto nel senso che mi sa che scivolerò cosa che qua sono un rock ok anche questo è andato ciao me ne vado perchè questo postaccio non ne puoi più sapere aiuto si si va? si sono riuscita a scendere per miracolo sai con le unghie che ti tieni contro le pareti a cercando di miracolosamente non lo so vado verso la base ah subito aspetta 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 che ti raggiungo ah ok aspetta allora si spaventa che ci c'è in base sono aperta nei i vari mi tolgo ecco se tu guardi sulla montagna alla tua destra ah c'è la tua maschera nel inventario ah giusto sì l'ho visto quindi vieni qua che trapasso stai arrivando eh sì qua pieno di rock c'è un rock dietro no due scusa tanto perso ieri in questo giorno ho trovato un in realtà era più in là più avanti di là ho trovato il mini boss rocca da che poi magari ci dimentichiamo avviene giocato uno scorpione ma non è una cosa ma non è il bosco scorpione questo è sì lo è perché vedo la casa però da soli meglio di no 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 che scherzi piuttosto torniamo con no magari con gli animali quindi oggi abbiamo fatto vedere come si prende il leone come si va sopra la torre e come si muore dalla torre e anche come si prendono le tigri senza essere attaccati si abbiamo fatto vedere anche dove c'è tanto ferro quindi sotto la torre dei pipistrelli si 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 cozzano iena vabbè ma rimba è scomparso è rimasto sopra la torre non lo so stavamo con torre e Kira stava ancora lì Kira adesso torna torna la base da sola andiamo questo chi è? un altro un altro di guardia non lo puoi uccidere perché ah però vedi è un livello 3 non puoi ucciderlo perché ancora non ce l'ho a vero hai due vieni dietro tanto per vabbè io faccio una corsa fino all'alto più o meno bello mi corrego 3 iene certo ho tutte le iene della zona che poi mi sono passato a fianco e non mi hanno proprio considerato ma sì questo è chiaro ma poi abbiamo finito questa avventura lunghissima e stressante devo dire vabbè non stressante quanto la famosa caverna sì no vabbè lì è stato un incubo all'alto che stressante allora vediamo no è stato anche facile prendere cursa lì alla fine no è stato stato facendo la caverna ma io poi ero anche livello bassissimo eppure cioè è stata adesso allora quindi vediamo come sono a fare qualcosa di buono ah giusto e non abbiamo carne esotica quindi la cosa migliore a carne umana ma anche rinunceronte ah rinunceremo anche quelli quanti però tutta quella che avevamo l'abbiamo cotta no e a dividere quindi per forza cruda ah sì ciao e arrivo a fare un scatto e ti soggio dico quindi no eh eh io so che è comodo qua sì meno male che hai fatto questa scala anche se poi eeeh carne umana ti serve vabbè qua sotto ci sono quegli npc no voglio andare a vedere che cosa viene fuori anche quando sono i cocodrilli vediamo un attimo speriamo che ci sia rocco ehm cocod2 ah ma ne vedo sarà addirittura buoni allora il primo no ma il secondo diverso da tutti il c'è il maggiore il terzo no il quarto no uno 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 lui il maggiore il maggiore sì che ha con me come raccocco praticamente sì perché me lo chiami cocod2 cocco bello eeeh sì cocod2 che chiamerò beh poi ci sa cocodrè cocod4 cocod3 e mettete un mi piace a questo video che è stato lunghissimo è stato stressante per non girarlo ciao 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 ciao